Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura la dedichiamo al 69esimo anniversario della lacrimazione della Madonnina di Siracusa. Sono in corso le celebrazioni alla Basilica del santuario e ieri sera c'è stata l'omelia e quindi la celebrazione preseduta dal Vescovo di Ragusa, Monsignor Laplaca. Ce ne parla Francesco Aloi. Nel terzo giorno in cui si ricorda la lacrimazione di Maria Siracusa presiede il Vescovo di Ragusa. Il suo riferimento a Pio XII che 69 anni fa, nell'anno dell'evento prodigioso, era Papa e a San Giovanni Paolo II. Comprenderanno gli uomini, disse il Papa, l'arcano linguaggio di quelle lacrime. San Giovanni Paolo II più tardi interpretò quelle lacrime come un pianto sugli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale. Poi cita Papa Francesco. Le lacrime di Maria, ha detto Papa Francesco, nei mesi scorsi, sono anche il segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo l'Ucraina. Maria non rimane distante dalle nostre sofferenze, dice Monsignor Laplaca. Lei, dai piedi della croce, intercede perché nessun grido rimanga inascoltato. Chiediamo con tutto il cuore a Maria il dono delle lacrime, l'agine più valido contro l'impietrimento del nostro cuore. Le lacrime sciolgono le durezze del cuore e sono una via privilegiata verso l'incontro con il Signore. Preghiamo Maria Santissima perché le sue lacrime sciolgano tutte le durezze del nostro cuore e lo trasformino in un cuore di carne, capace di accogliere, di perdonare, di provare compassione e di amare. Lacrime che, come ribadisce il Vescovo, fanno cadere le maschere, sono una porta che ci conduce a Dio. Adesso parliamo di asili nido perché da lunedì scatta il nuovo anno che vedrà, e questa è una novità, tutti gli asili nido comunali aperti già appunto dal primo giorno utile. e questo anche al lavoro dei funzionari del Comune che hanno messo in condizione di poter aprire puntualmente. Non è assoluto anche il finanziamento di altre due nuove strutture con i fondi del PNRR. Sentiamo tutto nel servizio. Riaprono lunedì gli asili nido comunali di Siracusa. Una novità rispetto agli anni passati quando, per problemi di varia natura, la data d'avvio è sempre slittata anche per un lungo periodo. L'annuncio è avvenuto questa mattina contestualmente all'arrivo dei fondi del PNRR per la costruzione di altri asili nido nel capologo. Il 5 settembre apriremo gli asili nido, opereremo contemporaneamente anche con l'acquisto posti negli altri asili privati. È una grande soddisfazione, ricordando sempre le condizioni in cui abbiamo trovato gli asili, ma non ci fermiamo qui. Esiste un bonus per le famiglie, l'avviso arriverà domani, che consentirà a tutti i minori dai 3 anni ai 18 anni non ancora compiuti, di accedere a dei bonus per attività ricreative, educative, sportive, culturali, fino al mese di dicembre. E poi la notizia che mi fa più piacere dare è che oltre alle due scuole per l'infanzia, quindi un asilo nido e una materna che siamo riusciti a finanziare con i fondi del PNRR sia su Cassibile che su Contrada Carroziere, attraverso i fondi del PNRR ci hanno comunicato di averci finanziato altri due asili nido, uno in via Teofane e uno in via Epipoli e una nuova scuola materna sempre in via Teofane. Questo significa numericamente che al termine della realizzazione di questi spazi noi oltre ai 288 posti pubblici comunali che abbiamo oggi a Siracusa ne avremo altri 400 per gli asili nido, quindi per i bambini da 0 a 36 mesi e poi 499 nuovi posti per le scuole materne da 3 a 6 anni. Obiettivo un asilo per ogni quartiere? Sì, ci sarà una nuova struttura nei quartieri in cui si era sprovvisti di asilo, in ogni quartiere di Siracusa ci saranno asili nido a disposizione per tutte le famiglie, credo che in generale il potenziamento dei servizi per la prima infanzia in città costituisca un enorme supporto per le famiglie e infatti abbiamo con forza voluto in questi anni anche per questo ringrazio sia l'assessore Coppa che la dottoressa Assessore Carbone, abbiamo davvero, siamo riusciti anche grazie a una gara molto contestata ma come vediamo molto utile a ripristinare tutti gli asili nido comunali, vi invito a visitarli perché sono finalmente delle strutture più che dignitose, anzi molto belle e in ogni quartiere della città le famiglie potranno avere la possibilità di accedere a servizi di asilo pubblico, asili nido pubblici. In materia di istruzione invece dalla regione arrivano 3 milioni e 600 mila euro per le scuole siciliane, si tratta di interventi per prevenire il covid. Contributi per 3,6 milioni di euro alle scuole statali siciliane di ogni ordine e grado per adeguare gli ambienti scolastici destinati ad accogliere gli studenti affinché possano essere garantite le norme di sicurezza anti-covid. A seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili della originaria dotazione finanziaria di 18 milioni di euro a valere sui fondi del Polfres 2014-2020, l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per erogare somme necessarie all'adattamento e all'adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici di aule didattiche, ma anche alla fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-covid, ad esempio come i sistemi di areazione e filtraggio dell'area. Le istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, che non abbiano già partecipato al precedente avviso, potranno quindi presentare l'istanza entro il 12 settembre, inviando la via PEC all'indirizzo edilizia scolastica chiocciola legalmail.it. Il bando è consultabile sul sito web della regione della sezione dell'ufficio speciale per l'edilizia scolastica e università. La cronaca ci porta a Siracusa dove è stato arrestato un uomo di 58 anni, deve scontare 6 anni di reclusione perché nel 2015 aveva sfregiato la sua compagna. Dovrà scontare 6 anni di carcere, un uomo di 58 anni siracusano responsabile di atti persecutori, maltrattamenti e violenza nei confronti della ex compagna. Per anni ha stalkerizzato la donna, arrivando anche al punto di sfregiarle il volto, causando le profonde cicatrici permanenti. Ad eseguire la misura cautelare in carcere, i carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia che lo hanno arrestato su ordine dell'autorità giudiziaria. I fatti di violenza si riferiscono tra il 2016 e il 2021, mentre la coppia viveva in Puglia. Dopo l'interruzione della relazione sentimentale voluta dalla donna, l'uomo in quel periodo ha iniziato i suoi atteggiamenti violenti e persecutori. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri e del procedimento penale è arrivata per l'uomo la condanna. Rintracciato ed arrestato dai militari della stazione di Ortigia, dovrà espiare la pena di sei anni di carcere, così come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Numero in discesa in Sicilia per quanto attiene il coronavirus nell'ultima settimana di agosto, diminuzione del 7% dei nuovi positivi, in lieve calo anche ricoveri ospedalieri. La provincia di Siracusa si conferma una delle più contagiate. Sono in calo del 7% i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia nell'ultima settimana di agosto. Il tasso di positività più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni e tra i 60 e i 69. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e sono 1.476 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri sera dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, ben 500 in meno rispetto al giorno prima, a fronte di 11.424 tamponi processati. Il tasso di incidenza è calato di oltre due punti, passando dal 15,1 al 12,9% e la Sicilia adesso è al sesto posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 70.777 con un decremento di 473 casi. A livello provinciale è tornata a Palermo ad essere la città metropolitana più colpita dal virus davanti a Messina e Catania, ancora enna la provincia con il minor numero di contagi nelle ultime 24 ore. Questo il report completo nelle nove province dell'isola, a Palermo 276 casi, a Messina 269, a Catania 250. Poi Siracusa 130, Trapani 154, Ragusa 145, Caltanissetta 82, Agrigento 113, Chiudena con 57 casi. I guariti sono 1925, mentre sono 24 le vittime nuove causate dal coronavirus. Sempre sotto controllo la situazione negli ospedali. I ricoverati sono adesso 426, 25 in meno rispetto al dato precedente. In telepi intensiva sono 25 le persone che occupano i posti letto, due in più rispetto al giorno prima. Bene, con questo servizio guidiamo la prima parte del telegiornale. È stata comunque con noi, tra pochissimo parliamo ancora di cronaca, c'è la pagina sportiva. Ci vediamo tra poco. Al parco archeologico della Neapolis di Siracusa mostre, eventi, spettacoli. Il mito di di Aretusa, Polifemo e Galatea. Storie d'amore e ninfe. Nella splendida cornice del parco archeologico della Neapolis di Siracusa. Per info e biglietti visita il sito aditusculture.com Ogni domenica e giovedì fino al 28 agosto per i residenti di Siracusa e provincia biglietto a prezzo ridotto di 15 euro. Biglietti acquistabili solo presso la biglietteria del parco archeologico. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale. La cronaca ci porta a noto dove sono stati effettuati controlli da parte della Polizia di Stato e sono state elevate sanzioni per 10.000 euro. Controlli straordinari da parte della Polizia a noto elevate sanzioni per 10.000 euro. Un servizio straordinario di prevenzione generale e controllo del territorio garantendo un presidio di legalità in tutto il centro storico esteso anche ai quartieri Macchina del Ghiaccio, Crocifisso e altre aree periferiche netine. Sono stati effettuati vari posti di controllo in particolare in Corso Vittorio Emanuele, via Cavour, via Ducezio, Largo Landolina, via Aurispa, via Napoli, via Le Marconi e nelle aree balneari di Lido di Noto e di Eloro Pizzuta e anche nelle zone collinari di San Corrado di Fuori, via delle Calesse, contrada Baronazzo, contrada Lenza Vacche, San Giovanni al fine di prevenire reati contro il patrimonio. È stata anche intensificata l'attività identificativa essenziale per verificare eventuale presenza di soggetti noti alle forze di polizia. Sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada, specie per il mancato uso del casco, motivo per cui si è proceduto alle contestazioni con relative sanzioni accessorie anche per abusivismo commerciale. Nel complesso sono state identificate 50 persone, controllati 40 veicoli, sono state contestate 20 sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale, gli agenti hanno sequestrato nel centro storico netino numerosi giocattoli non a norma con la vigente normativa europea sulla sicurezza. Rifiuti in autostrada, così autostrade siciliane, intensifiche, controlli, scattano la denuncia per i cosiddetti ecovandali incastrati dalle videotrappole. Fermano l'auto nelle piaziole di sosta autostradali e scaricano sacchi di rifiuti, sono quelli che ormai vengono definiti ecovandali e che a volte, come testimoniato da alcune immagini, non disdegnano persino di urinare prima di lasciare sgommando l'area di sosta. Le tipologie di rifiuti abbandonati sono le più diverse da quelli urbani, non differenziati a casa ai materiali ingombranti di ogni genere. Si tratta di un fenomeno ormai diffuso in tutta Italia, ma che in Sicilia registra allarmanti dati di crescita. Autostrade siciliane già da qualche anno hanno dovuto provvedere a intensificare gli interventi raccolta di pulizia e disinfestazione e aumentare i controlli nelle aree, anche attraverso l'installazione di telecamere di sorveglianza. Le immagini registrate tra le videotrappole disseminate sulla 18 e sulla 20 non lasciano dubbi sui gesti incivili e ritraggono chiaramente le targhe dei mezzi che gli autori e i responsabili che vengono segnalati e denunciati all'autorità. Abbandonare rifiuti in autostrade non è infatti semplicemente un gesto maleducato di incuria verso un bene comune, ma un atto illegale che dal 2015 è giudicamente inserito tra i reati all'ambiente. L'articolo 256 del testo unico ambientale per l'abbandono dei rifiuti oltre all'obbligo del corretto smaltimento è previsto anche l'arresto da sei mesi a un anno e un'ammenda che può variare tra i 775 fino ai 38.734 euro. Autostrade siciliane ha già sporto decine di denunce e per i prossimi mesi ha in programma di intensificare ulteriormente gli investimenti sulle aree di sosta con numero maggiore di interventi bonifica e l'aumento delle videotrappole distribuita sull'autostrada Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela. Adesso a Lentini perché per l'approvazione dei bilanci riequilibrati il Consiglio Comunale si è riunito, è tornato a riunirsi ieri sera. Come è andata? Ce ne parla Nello Lafata. Ieri sera il Consiglio Comunale di Lentini ha approvato all'unanimità, con una sola astensione, i bilanci di previsione dalle 2014 al 2018 e i documenti unici di programmazione dal 2016 al 2018 proposti dall'Aggiunta Municipale, chiudendo così definitivamente alla prima fase della procedura di risanamento finanziario. Il lavoro continua ha puntualizzato l'assessore al bilancio Enzo Pupillo perché occorre ancora predisporre e approvare entro il 30 novembre prossimo i restanti bilanci di previsione e tutti i rendiconti consuntivi e di attuare la strategia condivisa dal Ministero dell'Interno per evitare un secondo dissesto e dare un nuovo orizzonte al nostro Comune. I lavori consigliari si sono conclusi però con un colpo di scena da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Silvana Bosco Santocono, che con determinazione e autorevolezza ha ufficializzato la propria indipendenza politica, distaccandosi dal gruppo Francesca Reale Sindaco che l'aveva fatto eleggere e di assicurare la sua collaborazione al Sindaco Lofaro. Questa per me è una scelta difficile, è un atto di coraggio che fa parte della natura della risponizzabilità e sono consapevole dei notevoli ostacoli che mi spettano. Pur tenendo assolutamente legittime le richieste della buonazione Francesca Reale Sindaco, che peraltro personalmente ho perorato, in questo momento storico per la città di Neurine non ne condivido enti e modi. Pertanto, essendosi determinata una situazione che non consente di svolgere questo compito di assoluta serenità e da servitore pubblico quale sono, diciamo, dichiaro la mia indipendenza augurando alla coalizione che ha sostenuto la candidatura di Francesca Reale di raggiungere gli obiettivi politici per il Stato. Rimaniamo a Lentini dove a causa di un incidente un ruspa ha danneggiato la condotta delle gas di città e c'è stata una fuoriuscita di metano. Sentiamo. Momenti di panico sono stati vissuti ieri pomeriggio nella centralissima via Etnea a Lentini per una perdita di gas in metano causata dalla foratura di una tubazione della rete di distribuzione del gas mentre erano in corso lavori di scavo da parte di un'impresa. Sullo luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento ed i vigili urbani che hanno provveduto a deviare il traffico veicolare in questa importante arteria cittadina. Sullo luogo è prontamente arrivata anche una squadra di operai dell'impresa che gestisce la distribuzione del gas metano a Lentini che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto per evitare improvvise esplosioni. Nel giro di pochi minuti quindi si è arrivati a mettere tutto sotto controllo e quindi a fare tirare un profondo respiro di sollievo anche agli abitanti della zona che temevano che la situazione potesse degenerare da un minuto all'altro. Nel patto per il sud firmato ad Agrigento il 10 settembre del 2016 furono inseriti 2,5 milioni di euro per il restauro e il recupero del castello di Brucoli ad Augusta sono passati sei anni e i lavori non sono stati ancora appaltati. Lo ribadisce l'esponente di Prima l'Italia Enzo Vinciullo. L'ultimo decreto assessoriale del settembre 2021 ha accertato l'esistenza delle somme così suddivise un milione per l'anno 2021, un milione e mezzo per l'anno 2022. Nonostante le varie sollecitazioni ad oggi non ci sono notizie dell'avvio delle procedure per appaltare i lavori. Di conseguenza esiste il rischio concreto di perdere il finanziamento senza restaurare il castello di Brucoli ad Augusta. Con una nota Vinciullo invita l'assessore regionale a vigilare sui suoi uffici periferici affinché si giunga all'appalto dei lavori e si eviti la perdita del finanziamento. Sarebbe oggettivamente una beffa insopportabile, dice Vinciullo, se tanto impegno profuso nel 2016 per inserire l'opera nel famoso elenco del patto per il sud venisse vanificato dagli ignavia di quanti dovrebbero dare seguito alla volontà del Parlamento siciliano. Oggi siamo arrivati insomma al mese di settembre e il 18 si apre la stagione venatoria in Sicilia. Vediamo con quali novità. Con l'ingresso di settembre inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione venatoria che in Sicilia si apre il 18. Intanto la novità è che non ci sarà la preapertura della caccia perché con il provvedimento del 31 agosto la regione si è uniformata ai provvedimenti cautelari dei giudici amministrativi sospendendo appunto questa parte di caccia che era riservata alla tortora, al coniglio e all'alzavola. L'apertura generale è programmata per domenica 18 settembre con chiusura il 30 gennaio del prossimo anno con periodi diversi in base alle varie specie. Per tutta la durata della stagione è invece autorizzata la caccia al cinghiale con alcune prescrizioni in base alla tipologia di attività alla gazza e alla ghiandaia. La Sicilia è unica regione in Italia attraverso il piano faunistico venatorio che ha previsto il divieto di caccia nei siti Natura 2000 e nei SIC, cioè i siti di importanza comunitaria, nelle ZSC, zona speciale di conservazione e nelle ZPS, zona a protezione speciale, tranne in pochi casi in cui l'attività è consentita a partire dal mese di ottobre. Bene, eccoci, siamo alla pagina sportiva, parliamo di kart perché c'è un siracusano, anzi un melillese che partecipa domenica alla prova unica del campionato del mondo di kart, si tratta del giovanissimo pilota Michael Paparo. Sentiamo. Il giovane pilota melillese di kart Michael Paparo è in Francia per tentare la scalata al campionato del mondo di categoria KZ2. Da oggi sulla pista di Le Mans sono in corso le qualifiche per la prova unica del campionato del mondo della categoria. Dopo due giorni di prove libere e di qualifiche, sabato ci saranno le manche per prendere punteggio e occupare il posto nella griglia di partenza della finale che si tiene invece domenica. Gli iscritti globalmente alla competizione sono 300 nella specifica categoria, invece sono 126 i piloti dei quali solo 36 avranno accesso alla finale a cui punta il campione melillese. Ancora giovanissimo, Michael ha iniziato la sua avventura kartistica nel 2011 alla guida dei minuscoli kart delfini per poi esplodere nel 2016 con la conquista di due prestigiose vittorie agli internazionali della WSK Champions Kart e la Supermaster Series. Da allora Michael è stabilmente nell'elite del kart internazionale con performance che lo hanno fatto crescere fino a collocarsi tra le teste di serie ad ogni gara in cui scende in pista. È considerato infatti tra i migliori dieci d'Europa nella prestigiosa KZ2 e che è la classe regina del karting. Nell'edizione di quest'anno del campionato europeo Paparo ha ottenuto un buon piazzamento in top 10 con particolare riferimento alla gara di Cremona. Lo sport in provincia di Siracusa deve attendere tempi migliori. È quanto ci dice una statistica dell'indice di sportività che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale e si basa su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie. Strutture e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l'economia e la realtà sociale. Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica che comprende le prestazioni agonistiche a livello individuale e di squadra per il 2021. Nei risultati della sedicesima edizione dell'indagine realizzata da PTS e pubblicata dal Sole 24 ore, la provincia di Siracusa occupa l'ottantatresimo posto su 107 in Italia in peggioramento rispetto allo scorso anno. In Sicilia va un po' meglio a Messina, sessantesima, in gradatoria, a Ragusa sessantasettesima, Catania settantaseiesima, mentre stanno peggio in Siracusa la provincia di Palermo, ottantaseiesima, Trapani 92 e addirittura a fanerino di coda sono Caltanissetta ed Enna. Chi prova a dare una chiave di lettura a questo periodo no dello sport a Siracusa è il presidente del CONI Lido Schiavo. In questi ultimi anni abbiamo perso il 50% delle società sportive in provincia, un fenomeno negativo che non è giustificabile con la pandemia perché i problemi sono sorti anche prima del Covid. Pensare ad esempio che non esista più una squadra di palacanestro femminile quando nella vicina Priolo abbiamo avuto una squadra campione d'Europa e oggi le ragazzine che vogliono fare basket devono emigrare a Modica è già motivo inspiegabile della crisi strutturale dello sport nella nostra provincia. Per Schiavo mancherebbe una vera e propria politica dello sport, basta osservare quanto sta avvenendo alle cittadelle dello sport per comprendere che ci sia un cortocircuito tra le società sportive e l'ente pubblico di riferimento. Non parliamo poi del campo scuola Pippo di Natale dove è stato acceso un mutuo quando attraverso il capitolo di spesa sport e periferia è pervenuta la somma di un milione e cento mila euro a fondo perduto. Mentre lo stadio De Simone è inagibile al momento e le due principali squadre della città hanno dovuto emigrare ad Avola, Lido Schiavo tocca il tasso e le palestre delle scuole. Una società che vuole continuare a soffrire delle palestre scolastiche per fare attività sportiva si è vista quadruplicare i costi per l'affitto ai locali. Un vero e proprio paradosso. Adesso le previsioni meteo. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La situazione è per la giornata di venerdì a livello europeo. Alta pressione un po' più a nord rispetto all'Italia e filtrazione di aria umida da ovest nord ovest in quota con qualche temporale. Temporali che nel weekend non mancheranno anche su molte zone del nostro paese specie al nord e sul medio tirreno. Nel dettaglio mappa della nuvolosità. Sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio. Guardiamo le precipitazioni perché dopo una prima mattinata di variabilità all'estremo sud la tendenza è a clima asciutto, a una cessazione delle precipitazioni anche se durante il pomeriggio lungo l'Appennino qualche locale scosce di pioggia non mancherà. Poi Alpi, prealpi e in serata dei temporali in arrivo anche per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e l'Emilia. Ecco in sintesi la mappa, una giornata nel complesso abbastanza bella ma osservata dalla serata temporali in arrivo al nord ovest. Tutti i dettagli precisi li trovate però scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Con la previsione meteo seguita questa edizione del telegiornale vi ringraziamo per averci seguito fin qui, appuntamento alle prossime edizioni ma intanto la linea vai colleghi della TR3 per continuare quindi con l'informazione. Arrivederci. Grazie 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 Grazie